Le risorse del PSR saranno indirizzate anche all'agroindustria, ma in questo settore le aziende devono acquistare solo in Abruzzo. Lo ha detto il Presidente D'Alfonso alla Col Diretti riunita in tour nazionale all'Aquila. No alla plastica che giunge da lontano per le menze scolastiche, spera D'Alfonso, che vorrebbe un'agricoltura a 360 gradi ed a chilometro zero.